Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Con il messaggio numero 1619 del 4 di maggio, ovviamente 2023, l'Inps ci comunica che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari che riguardano le rate della contribuzione fissa con scadenza febbraio, maggio, agosto e novembre 2022 e nonché anche febbraio 2023. Per tutti i lavoratori autonomi iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti. Gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all'interno del proprio cassetto previdenziale artigiani e commercianti. Seguendo questo percorso, cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, poi posizione assicurativa e poi avvisi bonari. Oltre a questa elaborazione, l'Inps ci fa sapere che contestualmente, quindi anche in aggiunta, verrà inviata un'email di allerta, quindi un'email di avviso, ai titolari della posizione contributiva e anche ai loro intermediari che abbiano ovviamente fornito, tramite il cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica. Nel caso in cui invece l'iscritto avesse già effettuato il pagamento di quanto dovuto, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito servizio che si trova all'interno del cassetto previdenziale artigiani e commercianti. Seguendo questo percorso, bisogna selezionare la sezione comunicazione bidirezionale, poi cliccare su comunicazioni e poi invio quietanza di versamento. Fate solo attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento, l'importo dovuto verrà richiesto poi tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Per maggiori informazioni potete sempre contattare il centralino telefonico dell'Inps, ai numeri che già conosciamo, oppure potete rivolgervi o a un CAF, il centro di assistenza fiscale, oppure a un professionista abilitato all'invio telematico delle dichiarazioni, così vi potranno aiutare a capire che cosa potrebbe essere successo. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E poi, come vi dico ultimamente, ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, è facilissimo, basta semplicemente aprire l'applicazione sul telefonino o tablet e venirmi a cercare. E per comodità vi lascio il collegamento qui sotto dell'altro social all'interno della scheda di questo video. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che vi lascio il collegamento qui sotto anche del messaggio dell'Inps, quindi se volete andarvelo a leggere, trovate il collegamento qui sotto. Con questo è tutto, ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre e solo sull'unico canale originale di YouTube, il mio, quello che vi fa i conti in tasca. A presto, ciao! Ciao!